Bu Signore e signori, benvenuti a questa serata indimenticabile La ditta Fuochi Chiarenza vi farà assistere ad uno spettacolo piromusicale unico in cui tecnologia e poesia si intrecciano Il cielo si illuminerà con una fantasmagoria di suoni e colori che accenderà la notte di nuove emozioni Buon divertimento Oh, vaga! 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 Grazie a tutti 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 Musica Musica